Salve a tutti e ben ritrovati, oggi siamo qui con lo showcase di Luffy Low E che dire ragazzi, un personaggio fotonico, fotonico, il nostro caro Mayback Kronos Ci fornirà questo suo showcase, quindi noi siamo qui per video commentarlo Come avete potuto vedere, questi sono i tag attivi Questi sono il set di medaglie che ha messo, ovviamente un set Luffy per attaccanti Contratti da 18, quindi ragazzi preparatevi a vederne veramente delle belle Mamma mia, è un personaggio veramente fortissimo Dai, primo match Ok, dai, ha contro due Roggen e due Oden Vediamo, vediamo, sarà un po' ardua questa Ok Se inizia Tra l'altro ha un compagno con delle medaglie Veramente, mamma mia, una schifezza Vabbè Dai Kronos, sei tutti noi Ok Ok, dai Primo match è ufficialmente iniziato Mamma mia, raga Wow Ma raga, cioè è veramente assurdo, assurdo Cioè Ha delle skill veramente assurde Ok che è un PG di colore blu Quindi giustamente è uno di quelli che per via del colore soffre Perché ci sono Roger e Oden Ma nonostante tutto Lo reputo uno dei bounty festival più forti che siano mai usciti su bounty rush Perché è veramente tosto, raga Veramente, veramente, veramente tosto Cioè la prima skill che blocca il recupero d'HP E ogni volta che blocca il recupero d'HP Si riduce anche la sua skill 2 Poi c'ha la sua skill 2 che ti prende la sua room a un'area lontanissima Quindi avete visto dove l'ha teletrasportato quello snakeman E poi quando ti becca Ti prendi pure lo stato di flame Se è vicino all'area del tesoro nemico Ha un incremento dell'amage tilt del 30% Se deve colpire vicino alla tua area del tesoro Ha un incremento dell'amage tilt del 30% Cioè è veramente, veramente tosto Poi Non lo puoi killare subito perché appunto ha l'uno di vita Quindi non muore subito Bisogna killarlo due volte Ripeto, è soltanto il fatto che ha il colore Che è un po' svantaggioso rispetto al meta attuale Ma come PG è veramente, veramente qualcosa di assurdo Cioè avete visto come ha bloccato il recupero HP di Roger Cioè Il che comunque è molto buono È veramente Nonostante sia svantaggioso Con fatto di colore Può dare anche il suo fastidio a personaggi come Roger E poi Cioè È rapidissima come skill È veramente super veloce Poi vabbè raga Portate pazienza È ovvio che dopo Sia Però Nel senso Tanta roba Veramente tanta tanta roba Ok Tanta secondi a fine del match Dai è squalto anche il boost Uuuuh Un jackpot Due in un colpo solo Cioè raga Veramente Cioè Lo vedete anche voi È veramente un PG Con i contro Veramente un PG con i contro È questo Vai Un bel Red Oak A Snakeman Ah no Questa volta non l'ho preso Però skill 1 6000 6000 di score GG E aveva un bel po' di verdi contro anche Non so se avete notato E il primo match È andato È partito il secondo Ok Qua siamo a Darlon Park Bene Bene Questa volta non hai squadra Gente con medaglia 4 Questo è positivo Ok Bene dai Oro 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 Vai Luffy Lo stupiscici Connessione a Stable Speriamo che non laggi Ok Bene Wow raga C'è È fantastico Veramente Veramente Fantastico Veramente Veramente Fantastico E quello Se l'è proprio Divorato C'è Se l'è trasportato avanti Gli ha affitto Flame E dopo Tag Skill 1 C'è proprio L'ha distrutto L'ha veramente distrutto Lucci Dove volevi andare Micio Micio Tac Preso anche Lucci Skill 1 E via Mamma mia raga Ma cosa sta combinando Cosa sta combinando Combinando Buono Veramente sta dominando la partita Uh adesso c'è pure il boost Adesso penso che si divertirà un bel po' Oden Dove vai Oden Ma Wow Completamente Bisciottato Quell'Oden Ok Va bene Come potete vedere Raga È fortissimo Veramente Fortissimo Scusate se mi ripeterò Su certe cose Però C'è veramente tosto 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 Skill 1 Preso E via Certo che in una mappa Come Arlong Park Può veramente Dominare il match Perché Dalle sponde all'altra Si teletrasporta davanti al PG Così è veramente Tosto Ok Ah quell'Oden Ha preso la bandiera Va bene Accidenti però Ha resistito quasi 3 minuti Eh Non è poco Non è poco Assolutamente Ok Preso Dai Ultimi 10 secondi Grande Grande No Pazzesco raga Pazzesco Che rimonta Che rimonta Bene Direi che siamo All'ultimo match Di giornata Wow 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 Da notare L'avversario Che si è portato Dietro Kobe Beh però Loro c'hanno anche Due Roger Quindi vediamo Ok 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 Dai 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 Allora Allora Vediamo il nostro Luffy Lo Come si comporterà In questo match Ready Ok Avete visto cosa ha fatto raga Asop è andato giù Se l'è trasportato qui sopra E via E se l'è mangiato Se l'è veramente Veramente Mangiato Dai che tanto Con il Roger Non può prendersi HP Tac Preso anche Roger Zoro Mi dispiace Anche per te Ok Scusate ragazzi Ho avuto una piccola interruzione Ma ecco ci siamo Riprendiamo con il continuo Del match Ok Mancano ancora due minuti E direi Non siamo Che sono messi Abbastanza bene Qua adesso Sta cercando Di aspettare Perché ha quasi Il burst E dopo Colpire Pesante Ok C'è che qualcuno Verrà teletrasportato E si piglierà Un bel redocchio In faccia Ho questo presentimento E il fortunato È barba nera Mamma mia raga Mamma mia raga Diciamo che l'Ufilo È uno di quei pochi PG Ma L'ha Asfaltato L'ha Completamente Asfaltato Stavo dicendo L'Ufilo È uno di quei pochi PG Che è in grado Di demolire Barba nera Come niente Secondo me Anche se vabbè Barba nera È sempre Barba nera Ovvio Preso anche un asop Nessun asop È stato Maltrattato In questo video Nessuno Pazzesco Eh qua si sono Coordinati molto bene Perché sotto C'è quel BB che è un mostro In difesa Nella sua bandiera Regge benissimo Come potete vedere Due rogers Poi c'è L'Ufilo Che Se li prende Dall'altro E se li divora I PG Tra l'altro Man mano Usando la skill 1 Si è ripreso Anche quel poco Da HP Tanta roba Beh raga Mancano 30 secondi Alla fine del match Io direi che Possiamo salutarci Vi invito a lasciare Un like Se il video vi è piaciuto Iscrivervi al canale Attivare la campanella Raga Per non perdervi Nessun altro video Vi invito a Dimmi cosa voi Ne pensate Di questo Grandissimo Personaggio Vi ricordo Il link In descrizione Dei vari gruppi Tare che non Del canale News E che dire Raga Noi Ci vediamo Alla prossima Ciao